Sono Mauro Laus e sono il Presidente del Consiglio regionale. Ti invito domenica 12 marzo presso la Sala 500 del Centro Congressi Lingotto per l'evento gratuito Overweight, istruzioni per l'uso, con me Piero Chiambretti, Marco Berri e molti altri ospiti. Ti faccio una domanda. Tu lo sai che cosa puoi fare per vivere di più e meglio? Vuoi sapere la risposta? Ti aspetto domenica 12 marzo. Ah, e non mancare.